buongiorno granellini buongiorno granellini quante ne abbiamo oggi martedì 27 di solito in italia giorno di paga io me lo ricordo il 27 poi finisce subito insomma vabbè allora granellini 27 28 29 e 30 quattro giorni di pilloline questa compresa noi iniziamo a tirare un po di somme ma prima un po di come dire di intro allora intanto speriamo tantissimo che vi sia piaciuto questo nuovo format dal titolo dove mangiare bene a forte ventura abbiamo iniziato con l'as olas olas del sur sì in questo caso abbiamo iniziato da un locale di ginigina mar oggi scusateci per le luci è mattina piena il sole fa gli scherzi qua a forte ventura sapete che è un'isoletta che è un po sempre nuvolosa le nuvole si aprono si chiudono fa quello che vuole come una donna che cambia spesso d'umore no ma quello era il cielo di irlanda anche forte ventura gli somiglia e quindi ci fa questi scherzi e se vogliamo aspettare che ci sia proprio la luce perfetta non facciamo mai video quindi spero che ci perdonerete allora dicevamo abbiamo iniziato questo nuovo format non sarà tutte le domeniche la domenica la riserviamo sempre alle cose belle di forte ventura food reportage spiagge e altre cose come vi dicevamo utili così come è stato il servizio su mano eccia la tua pensione per cane gatti a forte ventura grazie per il sostegno per le vostre iscrizioni per le vostre bellissime spolliciate ma soprattutto per i vostri commenti volevamo dirvi questo noi non è che quando leggiamo i commenti lo facciamo distrattamente facendo altre cose passando mettendo il cuoricino così no ci fermiamo leggiamo con attenzione spesso ci fate commuovere tantissime volte ci fate ridere e siamo molto contenti della vostra partecipazione è un regalo bellissimo allora stiamo come dire intrecciando delle bellissime relazioni con tanti di voi ma devo dire che negli ultimi giorni c'è un signore che mi ha fatto scompisciare io devo assolutamente salutarti come si faceva con le piccole reti private con quelle piccole tv dove si salutava tizio e caio si lucio da brescia parlo proprio di te io devo assolutamente salutarti perché con due commenti ci hai conquistate ci fai morire dal ridere e se veramente un giorno vorrai scrivere qui sull'isola il tuo diario di un robottino ti daremo una mano almeno per per metterlo giù fantastica fantastica idea per il resto cos'altro vi posso dire ci avete chiesto se su amazon è possibile cioè se i prodotti amazon arrivano sull'isola non so perché ci avete fatto questa domanda certo non sempre sul sito amazon.es noi spesso ordiniamo da amazon.it ci vuole un sacco di tempo non è mai il giorno di consegna che dicono ma noi ne facciamo ampio uso perché siamo anche affiliate e tutti i prodotti che trovate sotto ogni video nei link in descrizione sono tutti quelli che noi usiamo e che abbiamo gran parte ordinato faremo anche stiamo già in lavorazione ne abbiamo fatto metà un unboxing dei prodotti amazon quindi certo che ci arrivano c'è anche la famosa scatolina con logo e cos'altro dirvi niente io direi di passare a questa pillolina spero che troverete belli questi format ci inventiamo sempre cose diverse le altre le portiamo a termine e siamo ben contente di questo canale chi tocca tocca a te guarda che tu ieri hai detto pochissimo è sì ma era una pillola così ma non lo so stai quattro pilloline inventati qualcosa perché gli amici granellini cerco la luce vogliono sapere allora c'è poco da scegliere qua speriamo che sia un poco più leggera sta pillola beh pedro e clara sapete che intanto è tanto lunga tanto è un bigliettone una lettera un epistole allora sei tu granellino sei in un ascensore con una persona l'ascensore ovviamente si blocca e e devi restare lì per un'ora che poi non so come fa sapere che sia proprio un'ora chi è la persona bloccata con te e chi è secondo me sono io con te allora io vorrei che fossi tu per una questione non lo so vi dirò allora da un lato sarebbe comodo tanto stiamo sempre assieme e insomma ci 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 guideremo nella paura di rimanere bloccata anche se dice devi restare per un'ora quindi magari arriva una voce dal microfono e dice tranquille lingue di polvere fra un'ora vi facciamo uscire e ci mettiamo io e te ma ste domandine un po' insidiose di solito le fanno per sondare il fatto che spesso si ha paura di restare in una stanza con qualcuno che ci fa profondamente schifo con cui non vogliamo avere a che fare che fai se fossi costretto messo all'angolo come ad esempio un'ora in un ascensore che cosa faresti e che fai e allora granellini io non sono una che sceglie le strade facili ma stavolta non scelgo lei che tanto ci sto assieme non scelgo quello che magari mi vorrebbe prendere a mitrate mi scelgo io qualcuno con cui vorrei restare con un'ora in un ascensore niente di così vorrei tanto rivedere una cara amica che non vedo da un bel po' e che non c'è stata occasione ma con cui ho fatto neanche a farla apposta tutti i passaggi di delusione, illusione e disillusione oggi siamo due persone nuove penso sinceramente che siamo migliori e il sentimento che adesso ci lega a delle solide basi perché sapete che senza le basi vi dimenticate le altezze quindi potendo scegliere nel mondo dei desideri spererei di stare un'ora noi non ascensore vorrei starci qua sull'isola vorrei stare da lei vorrei che stessimo in giro vorrei stare tutt'assieme però se proprio devo anche solo un'ora in un ascensore perché so che per noi durerebbe 30 secondi è una di quelle persone con cui ci parleresti tutta la vita anche dietro le grade di un cancello quindi sì, io vorrei tanto, se proprio ci devo stare costretta in questo ascensore sì, vorrei stare con questa mia amica cos'altro vi posso dire? niente passo la palla a lei che adesso avrà tante cose da dirvi sì 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 sì, questo è un argomento che mi sconfinferà un sacco allora un'ora chiusa in un ascensore con ah, io qua potrei fare l'elenco allora intanto una scrittrice famosa di horror così le rompo le scatole e le chiedo ma è quel personaggio lì che come hai fatto? come ti vengono? cose così insomma poi se vogliamo stare un pochino meno sul gotico perché sennò mi uccidete tutti quanti allora un'ora chiusa in un ascensore ma ci vorrei un bambino o una bambina perché con loro riusciremo sicuramente ad inventarci dei giochi per intrattenerci allora dovete sapere che io non ho l'istinto materno però diciamo che mi diverto molto con i più piccoli e quando hai detto non ho l'istinto materno come nel film Maleficent tutta la luce sta andando via stiamo diventando scurissime cantite diranno che il video è fatto male che non si vede niente che vi siete comprate da Amazon diranno che non si vede niente e dobbiamo accendere le luci di prima mattina dovevamo farlo sì può essere comunque tornando alla perla alla pillola e dicevo che un bambino sicuramente riesce a trarre dalle situazioni più antipatiche qualcosa di divertente quindi ecco sì vorrei avere con me un piccoletto e giocarci assieme continuando nella cosa di chi vorresti in ascensore in realtà la domanda non è chi vorresti è con chi sei ecco chi sei e quindi andando sulla cosa con chi non vorresti stare in ascensore lì l'elenco si fa un po' lunghetto e ovviamente non si possono fare nomi però ecco vorrei non essere in ascensore con una di quelle persone che mi diceva ma cosa credi di trovare lì ma dove vai ecco perché allora potrei insomma vendicarmi e dire tutto quello che ho trovato qua tremenda sta pillola quindi ecco ecco perché tu partecipi poco è meglio quando non parli sei tremenda ecco qua granellini servita la pillola ecco pillola perché sta pillola nasce sapete perché l'idea originale era ci sono proprio quelle persone che tu nella tua vita non vuoi rivedere mai più metti caso che fossi in un ascensore ci devi stare per un'ora che fai? ah io per come sono brava a ignorare io sarei capace di girarmi sarei proprio capace di fare questo però per evitare di dare risposte così glaciali sono entrata nel regno della fantasia e mi piacerebbe rivedere tanto la mia amica a cui fra l'altro perché sì sei proprio tu se tutto è andato come doveva andare se chi ha fatto quello che dovevo fare è riuscito a farlo credo che ad ora che tu veda questa pillola avrai ricevuto qualcosa più o meno come orario ci siamo speriamo e se no ci sei giocata e se no mi sono giocata la cosa ma tanto a me le robe tutte artefatte non vengono bene comunque sì sei tu non vedo l'ora di rivederti ok fatta questa pillola i nostri cani abbaiano abbiamo superato i 10 minuti quindi ci siamo presi un po' più di tempo ragazzuoli a domani con altre pilloline fino al 30 un bacione però i vostri commenti le vostre risposte alla pillola la mia fretta volevo chiudere non vi ho detto di partecipare questa è la cosa più importante no 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 meno male vedete com'è bella con queste pillole gotiche di gente che scrive ora mi raccomando chi è sta persona in ascensore lo potete dire se non lo potete dire lasciamo perdere noi capiamo che magari in quell'ascensore chissà che succede però insomma vedete voi cosa commentare a vostra discrezione ok scappiamo a domani ciao Branellini grazie a tutti grazie a tutti